Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Incallito Oggi è una puntata molto speciale per voi perché sono riuscito a mettere le mie mani su una cosa molto speciale Suppongo che l'avrete già capito dal titolo Però è una cosa che è vendita solo ed esclusivamente in America Ed è stata venduta mi pare solo per un periodo limitato E parliamo naturalmente dei cereali di Super Mario Questi qua sono cereali creati dalla Kellogg's e praticamente sono molto speciali perché sono proprio a tema Super Mario Quindi come potremmo vedere qua ci sono delle stelline come cereale di base E poi ci sono dei marshmallow a forma di o fungo rosso o cubo punto di domanda oppure fungo verde Quindi davvero molto speciale In più questo è un amiibo come potete vedere qua Questo qua è un amiibo che se inserito Se usato con Super Mario Super Mario Odyssey Ci darà una cosa speciale Io l'ho già provato non da nulla di particolare Da semplicemente un po' di monete In ogni caso però comunque è un amiibo È comunque un amiibo quindi è Comunque bello tenere anche la scatola Quindi oltre a dare un'occhiata qua Come potete vedere qua c'è scritto Featuring Power of Marshmallows E qua non dice nient'altro di speciale Poi dietro abbiamo un bellissimo giochino Con i warp pipes Con i tubi In cui si deve arrivare alla fine Quindi uscire dal labirinto Veramente molto molto carino E dopo di che qua spiega come usare l'amiibo L'amiibo è praticamente in questa parte qua Qua dietro E se lo si scannerizza sul Joy-Con Si otterranno dei bonus Quindi come potete vedere qua ci sono delle monete E proprio indicare per chi ci darà delle monete Quindi davvero molto molto carino E quindi direi di proseguire qua Vediamo un bellissimo Super Mario Con il suo cucchiaio pronto a divorarsi i suoi cereali Quindi direi che possiamo mettere da parte la confezione E dare un'occhiata ai cereali veri e propri Quindi come potete vedere questa qua è la confezione L'andiamo ad aprire L'ho comprato da un negozio qua a Milano Che è specializzato in prodotti di importazione americana Quindi è veramente Arriva direttamente proprio dall'America Ha un profumo molto dolce Proprio di marshmallow Che particolare Quindi il cereale normale Sono queste stelline qua Come potete vedere nulla di particolare C'erano anche anni fa in Italia delle stelline al cioccolato Dopodiché qua abbiamo un marshmallow A forma di cubo punto di domanda Question block Molto carino Poi ne abbiamo uno a forma di fungo rosso Questo qua non è molto bello Vediamo se ne trovo uno fatto meglio Vediamo Questo qua dovrebbe andare bene Eccolo qua Quindi questo qua è il fungo rosso Più o meno E poi qua invece abbiamo il fungo verde Eccolo qua Che sono marshmallow Infatti sono morbidi Se li si schiaccia Sono molto morbidi Quindi ho portato qua la mia tazza di Zelda Questo qua è di Skyward Sword Ne ho un'altra di Animal Crossing Comunque sono molto belle E ho qua anche un bel po' di latte Naturalmente vi prego Non iniziamo la diatriba Se mettere prima i cereali O prima il latte Quindi lasciamo stare Io metto prima i cereali E poi il latte Quindi per favore Non facciamo discussioni nei commenti Quindi versiamo un po' di questi cereali Nella mia tazza Non tantissimi Perché comunque Ho già fatto colazione Ecco fatto Mettiamone ancora un pochino Va bene Quindi qua abbiamo un po' di tutto Un po' di marshmallow Un po' di cereali Quindi questi li possiamo appoggiare qua di fianco E quindi adesso apriamo il latte E lo versiamo sopra E li assaggiamo E vediamo un po' come sono Io non li ho assaggiati apposta Così potevo fare un video assieme a voi Quindi abbiamo l'esperienza assieme Quindi versiamo un po' di latte Ok Così dovrebbe bastare Ok Quindi come potete vedere Ecco qua Questi qua sono i cereali Dentro c'è pure il latte E quindi adesso Mischiamo un pochino Li facciamo ammorbidire Che io i cereali così duri Non mi piacciono Quindi preferisco farli ammorbidire un pochino E questi qua Quindi sono Mi pare anche esclusivi di un negozio Ma che adesso non mi ricordo Vediamo qua dice Dice Cereali al Berry cereals Quindi cereali a Le bacche Non so bene E marshmallow E naturalmente è tutto Sono i saporitori naturali E vediamo Ah vabbè In America si possono anche Collezionare i punti Sul sito Della Kellogg's Bene Si sono Si sono Ammorbiditi un po' Quindi direi di procedere All'assaggio Un secondo eh Buoni Non me li aspettavo così Allora Praticamente i cereali normali Sono un po' come I Kellogg's Quelli Normali Cereale Classico I marshmallow Sono molto buoni Sono proprio dolci E si riesce a differenziare Quello rosso Perché sa proprio di Lampone E poi ce n'è un altro Invece che sa il mirtillo Penso sia Il Quello Il punto di domanda Ma devo dire che è veramente Molto buono Datemi un secondo Che sono veramente buoni E li finisco Mettiamo in paso un attimo Molto buoni Non me li aspettavo così buoni Ma pensa te Quindi Questi li trovate su diversi siti Che importano Caramelle O altri tipi di cereali Comunque Barrette al cioccolato Un po' di tutto Prodotti in generale Comunque americani Se ne sono diversi a Milano Infatti so Ho avuto la possibilità Di andare direttamente lì Vi assicuro che costano Perché io Questo qua mi pare Che l'ho pagato 10 euro Però vabbè Alla fine comunque Ne compri uno C'è la confezione C'è l'amiibo A staggi cereali Però è finita lì Da quanto ho letto online Questi qua Sono simili Ai Lucky Charms Quindi chi ha assaggiato Dei cereali americani Magari Può dirmi se questo È vero oppure no Comunque sono dolci La parte Le stelline Come vi ho già detto Sono normali cereali Al Al Frumento Non so bene Cos'è che sia In ogni caso Sono molto molto buoni Vediamo se lo dice No non lo dice Però vabbè Comunque È veramente Molto molto buono Cosa dire Naturalmente Non vi dico Andateli a comprare Perché come l'Italia Non sono disponibili Se non ha prezzi Molto alti Però Effettivamente L'esperienza Di assaggiare Le cereali americane È stata veramente Molto molto bella Quindi mi raccomando Se vi è piaciuto Questo video Lasciate un bel Mi piace Fatemi sapere Se avete anche voi Assaggiato i cereali Di super mario Magari date in america Quindi Che so Li potete ancora trovare So che ne hanno Rilasciato anche Un'altra Confezione Che però Il cereale Mi pare che sia Più o meno uguale In ogni caso Veramente molto buoni Sono rimasto stupito Anche perché Mi aspettavo una roba Esageratamente dolce Però Effettivamente L'unica parte dolce Sono i marshmallow E non sono troppo dolci Quindi Devo dire che Effettivamente Sono dei buoni cereali Quindi Vi ringrazio Per aver guardato questo video Se vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Lasciate giù nei commenti Domande Consigli Opinioni Tutto quello che volete Mi raccomando Poi Ci vediamo Il giorno di Natale Il 25 Quindi dopo domani Per un bel unboxing Di tutti i regali Che ho ricevuto Vi assicuro Che sono tanti E molto speciali Quindi ci vediamo Quel giorno Poi mi raccomando Lasciate anche un bel Mi piace Alla mia pagina Facebook Seguitemi su Instagram E mi raccomando Commentate con tutto Quello che volete Vi saluto E vi auguro Buone vacanze Ci vediamo Il 25 Di dicembre Con la unboxing Dei miei regali Ciao 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 ciao